Parla tifoso dell'Azzurra. Qui portiamo le ultime notizie direttamente dal cuore del nostro amato club. Ma prima di addentrarci in questo argomento, lo sai già, vero? Lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessuna informazione interessante. Andiamo! Oggi vi riportiamo uno scoop di mercato direttamente dal noto giornalista Walter De Maggio, direttore di radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso della trasmissione Radio Gol ha condiviso alcune rivelazioni che promettono di dare una scossa al mercato del Napoli. La notizia che fa parlare di sé è la possibile disputa tra Napoli e Milan per un big, l'Englet. Entrambi i club terrebbero d'occhio il difensore centrale per rafforzare le proprie difese. Immaginatevi, Napoli e Milan sulla stessa strada con lo stesso occhio al rinforzo. De Maggio dice che il Napoli sta lavorando dietro le quinte per garantire questo rinforzo, ma la concorrenza con il Milan promette di scaldare il mercato invernale. Ma non finisce qui. De Maggio ha anche rivelato che il Napoli tiene d'occhio un altro ambito obiettivo del Milan, Ricci del Torino. Una vera e propria battaglia dietro le quinte tra questi due giganti del calcio italiano. Sembra però che il Torino non sia molto disposto a rilasciare Ricci a gennaio, il che complica un po' le cose per la nostra squadra. È incredibile vedere il movimento dietro le quinte, non è vero? De Laurenti sta lavorando duro, puntando su diversi giocatori per rinforzare ulteriormente la nostra rosa. Napoli e Milan in competizione per rinforzi importanti sono un segno di grandi cose a venire. Ora voglio sapere la tua opinione. L'Englet sarebbe il pezzo mancante per la nostra difesa? E Ricci, secondo te il Napoli dovrebbe insistere per prenderti o cercare altre opzioni? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Mi farebbe piacere sapere cosa pensa la famiglia azzurra di questi movimenti di mercato. Se la novità ti è piaciuta, lo sai già, lascia un mi piace. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nulla. Condividi con altri tifosi e diffondiamo l'amore per il Napoli. Forza Napoli sempre!